e poi eri con neve che ha menzioso e poi eri con neve 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 oggi ne abbiamo quanto 4 gennaio 2018 ore 17 30 quasi 18 nevica meglio una leve che non tutta quella acqua che abbiamo avuto neve del primavera siamo creati i cristiani che festeggiano in piazza ma a dire una cosa ma sta neve buona è questa neve è proprio la cosa che aspettavamo l'anno scorso Mancovini e infatti aspettavamo questo 2019 ma per chi ci piace neve? si è cominciato buona prima la volata buona ma neve è buona per ora ma secondo lei quanto si fa questa neve? avuta e ricca domani? ma io allora io sono contento di questo che l'ivica sia di montagna sia di marina e poi quanto si fa? 5 centimetri, 6 centimetri però il proverbio dice se chiove la marina piglia la rata e va semina ma neve la marina non c'è il proverbio no, io andavo alla mattina però è una cosa importante che disinfetta tutte le cose e poi quest'anno migliore l'acqua vi rega l'acqua che come ora non avevamo più di bisogno assolutamente niente neve di gennaio si riempie il granaio no? si si riempie il granaio a disinfettare tutte le cose tutte le cose che c'è un tossio non c'è un tossio non c'è un tossio non c'è un tossio dente venne un po' in tascia su venne così pezzicchi queste cose no? ma anche perché morono tutti vedi chi sta qua c'è una temperatura brutta ma questo perriarbolo com'è? ne fa alivi cose? no, questo perriarbolo viene qua a Sant'Uma e viene per Natale era così ah, mi pare era un peripino no, è il Chirondale che poi... ah, questo per bellemente comune per bellemente ho capito poi c'è passare a Palumma da vicino tutti i cristiani si riempie, aria rifesta aria rifesta niente, vostri a Natale ti mangiavo questo cos'è? ah, mi mangiai, parlando con voi mi mangiai chitte di menola, chitte di fico le puma ne figgi? le puma, sì ne ripersi come si fanno? no, ne ripersi manco le cacchie niente ma che ne vede, sei una duna ricca di umana se continuano così si fa gauda ma se continuano così, viene, manco vento c'è dalle fiori, dalle cose, aria rifiutati quando si farà? e dopo sarà più gauda infatti i pecore sono mesi da Capannura ma insomma alla volontà di Dio speriamo magari che non fa danno, no? sì, e speriamo che pure che scampi perché la comunica è così semplice e che santa stagione poi frutta e se ne mangia sempre buoni certo che frutta tutte cose fanno infatti come si dice neve di gennaio e riempie il granale riempie il granale va bene, buonasera, buona paura guarda che vi da volare la palma in questo paese? domenica ah, domenica c'è la volare la palma se due scampi si fa e se due scampi si fa neve come vuole? si fa dentro no, si fa in greghese ma si fa sempre, no? si fa sempre ma penso che se vuole la tinta che c'è, che si dice? se vuole la tinta che fa? no, non va volare né tinta né buona niente va volare e basta va volare e basta cavana avevamo bisogno di volare buona esatto va bene, va bene, alza bene rica alza bene rica